I primi a tornare a scuola sono stati questa mattina gli studenti di due istituti superiori. L'anno scolastico ha preso il via oggi a Sciacca per i ragazzi del Tommaso Fazzello, che comprende i licei classico ed artistico, e del Don Michele Arena, con tutti i vari plessi e i vari indirizzi scolastici. Domani la ripresa delle attività didattiche in un altro istituto superiore, il liceo scientifico Enrico Fermi. Mercoledì 11 settembre, con il rientro a scuola degli studenti dell'amato vetrano di entrambi gli indirizzi agrario ed alberghiero, si completa il quadro della ripresa delle attività per tutti gli istituti superiori cittadini. Giovedì 12 settembre, infine, ossia la data indicata dalla regione siciliana, torneranno in classe le scuole di base e dunque materne, elementari e medie. In questa prima settimana, inoltre, tutte le scuole effettueranno un orario ridotto, che entrerà poi a regime a partire dalla prossima settimana. Vacanze terminate, insomma, o che stanno per terminare per gli studenti saccensi. Un calendario, quello 2019-2020, predisposto dalla regione siciliana, che prevede la fine dell'anno scolastico, il prossimo 6 giugno, per le scuole che fanno lezione sei giorni la settimana e il 10 giugno per quelle che, invece, fanno lezione fino al venerdì. La chiusura delle scuole per le festività natalizie è stata fissata dal 23 dicembre al 7 gennaio e dal 9 al 14 aprile per le festività pasquali. A queste vacanze si aggiungono poi quelle per la ricorrenza del Santo Patrono e per le feste nazionali, come il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Un nuovo anno scolastico che asciacca segna alcune novità, come è noto per ciò che concerne i dirigenti. Al comprensivo Mariano Rossi non c'è più lui già bene, è andato in pensione, la reggenza dell'istituto è stata affidata alla riberese Paola Triolo. Al primo circolo didattico Giovanni XXIII torna la dirigente Gabriella Scaturro, che avrà anche la reggenza della scuola media Agostino Inveges, torna reggente del secondo circolo didattico Sant'Agostino e infine il dirigente scolastico del comprensivo Dante Alighieri, Pippo Graffeo. Dal punto di vista strutturale delle opere a disposizione delle scuole, una buona notizia riguarda il liceo scientifico Enrico Fermi di Contrada Perriera, dove è in programma a fine mese la consegna alla scuola della palestra, dove sono stati ultimati i lavori da parte della ditta appaltatrice e l'inaugurazione della palestra coinciderà con la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico.